Martedì 18 aprile la storica impresa ha aperto una via di grado 9b a Laghel, chiodata da 15 anni ma finora superiore alle possibilità di tutti gli scalatori che ci si sono cimentati. Una novità che nell'ambiente dell'arrampicata di tutto il mondo ha fatto parecchio rumore, portando nuovamente alla ribalta in nome di Arco, quale patria mondiale del free climbing. Per questo nella mattina di domenica l'amministrazione comunale ha invitato il celebre campione di arrampicata Adam Ondra in municipio per un momento ufficiale in cui congratularsi ed esprimere la riconoscenza di tutta la città. Ad accogliere il giovane asso cieco c'erano anche il sindaco Alessandro Betta e l'assessore allo sport Maria Luisa Tavernini che per l'occasione ha preparato una torta ai mirtilli molto apprezzata dai presenti. Adam Ondra è venuto per la prima volta ad Arco ancora bambino, all'età di sette anni, accompagnato dai genitori anch'essi scalatori. Ha vinto per due volte il Rockmaster consolidando la sua fama ed è inoltre innamorato del Garda Trentino considerandolo la sua seconda casa. C'è quindi un rapporto speciale di lunga data tra la comunità e questo grande campione.